Ciao bambini, sono la maestra Michela della classe viola e oggi voglio farvi vedere una cosa buffa. Facciamo un pesce d'aprile, uno scherzetto per mamma, papà e o chi si vuole. Con un pennarellino si può disegnare una faccia, fate una cosa lunga 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 come un pesciolone. E due orecchiette, questa sarà la coda, io farei anche una piccola pinna di qua e una piccola pinna per su e questa è la nostra faccia. Un bell'occhio, bello, una bocca sorridente. Eccolo il nostro pescetto. E poi bambini, come si può fare? Si può colorare, come sempre? Io ho anche un bel pennarello fucsia, gli faccio la guanciotta e la bocca. Fucsia, fucsia, molto simpatico. E sapete cosa si può fare? Beh, ho trovato delle piccole piccole lenticchie, sono molto carine. Scommetto che anche voi avete a casa delle lenticchie o dei fagiolini. Invece di fare le pinne, mettete dei gocciolini di colla sul vostro bel pesciolino. Le pinne le lasciamo libere, perché poi questo pescetto si potrà tagliare e con un po' di scotch si attacca alla schiena della mamma, della zia, dell'amica, di chi si vuole, di chi avete in casa con voi. Attaccate le lenticchiette. Guarda come viene simpatico il pesciolino lenticchietto. Piccolo pescioletto d'aprile. Invece di fare tutte le scagliette del pesciolino, noi ci mettiamo le lenticchie. E' simpatico con le lenticchie, ma se voi volete potete mettergli dei pezzettini di carta. Se per esempio avete dei piselli secchi e volete farlo verde, ci mettete i pesellini secchi. Ognuno di voi avrà a casa qualcosa di bello. Qualcosa che può servire. Ecco qua. La colla, questa colla è bella perché si attacca subito. È una colla super. Ho trovato una Patex attaccatuta. E poi con una forbicina. Ce l'è una forbicina? Ciao bambini! Sì? Si taglia il contorno. Clic, cloc, clic, cloc. Beh. Spero abbiate le forbicine con la punta rotonda a casa. Oppure ci vuole... No, oppure ci vuole una mamma che toglie lei. Fate un po'. Vediamo un po'. Guardate le lenticchie strane che ho. Oh, ma c'è lo scotch? Certo. Quando avete tagliato la faccia, ci attaccate un pezzettino di scotch in cima. E lo attaccherete anche sulla spalla della mamma. Un attimo! È difficilissimo tagliare e registrare, eh? Forza maestra che ce la fai! Vai, vai, attacca, taglia, taglia e taglia. Taglia e gira, gira e taglia. È veramente complicato. Però, sono sicura che voi siete bravissimi perché abbiamo tagliato tanto a scuola. Siete anche più bravi di me. Eccolo! Ciao pesetto! E con un pezzettino di scotch. Ta-da! Ta-da! Oh! Vieni pesciolino, vieni! Attaccati alla maglietta della maestra! Ah! Pesce d'aprile! Ciao! Ciao a tutti! E buon pesce d'aprile! Ciao a tutti!